Quando la statistica del 99% diventò il nome del movimento Occupy Wall Street nell'ottobre del 2011, le analisi economiche stavano già da alcuni anni denunciando l'aumento della diseguaglianza, come abbiamo visto anche da queste slides. Tra il 2002 e il 2007 l'1% della popolazione americana aveva visto crescere la propria ricchezza del 61,8%, mentre per il 99 era aumentata solo del 6,8%. E poi negli anni della crisi, tra il 2009 e il 2012, il recupero per l'1% era stato del 31,4%, mentre per il 99% solo dello 0,4%. A fronte di questa forbice straordinaria, misurata e denunciata da Piketty, Sezze e Stiglitz, la risposta ufficiale della Federal Reserve Bank di St. Louis fu categorica come il titolo del suo rapporto, della primavera del 2010. Inequality, income, or income inequality, it's not so bad. La diseguaglianza di reddito non è poi così cattiva, così negativa. L'introduzione del progetto del movimento del 99% di Occupy Wall Street elenca però alcune insopportabili diseguaglianze che la diseguaglianza di reddito comporta nelle società di mercato. Cito, noi siamo il 99% cacciati dalle nostre case, costretti a scegliere tra mangiare o avere una casa, senza una sanità decente, costretti a vivere in aree insalubri e degradate, a lavorare per molte ore con poca paga e ormai nessun diritto, oppure stare senza lavoro. Noi non prendiamo nulla, mentre l'1% prende tutto. Ora io vorrei dedicare questo mio breve intervento non a provare che la diseguaglianza è ingiusta, ma a mostrare come la diseguaglianza sia stata e sia giustificata come giusta. Il rapporto della Federal Reserve non è dopo tutto un'eccezione. Una premessa. È irrealistico affermare che eguaglianza e diseguaglianza siano assoluti. Sono concetti relativi. La massima di Marx a ciascuno secondo i propri bisogni significa appunto che noi non siamo uguali, siamo diversi e però uguali come parte della specie in relazione ad alcuni bisogni di vita fondamentali. Ancora, il diritto politico uguale, il suffragio universale per intenderci, ci fa tutti noi cittadini uguali nel potere di prendere decisioni e di giudicarle. Come voler dire che poiché siamo diversi e presumibilmente anche diseguali in molte cose, la democrazia stabilisce però che tutti siamo uguali nel potere politico primario. Quindi uguaglianza politica è stabilita in modo da far sì che noi siamo uguali in qualcosa di importante proprio perché le nostre diseguaglianze non devono diventare ragione di sopruso, di potere, di subordinazione. Quindi l'uguaglianza per legge e condizioni di libertà, tenuto conto che siamo diversi. E questa idea di uguaglianza che viene periodicamente messa in questione non è un caso che proprio partire dal tempo in cui l'uguaglianza politica venne affermata, cioè l'Atene classica, vennero teorizzate le ragioni della diseguaglianza. Per cui abbiamo il poeta Solone che parlava di uguaglianza e il filosofo Platone che teorizzava la diseguaglianza. Come allora, in altri momenti storici, le teorie della diseguaglianza si sono fatte i muscoli per contrastare le rivendicazioni dell'uguaglianza politica. Nell'antichità furono i dialoghi platonici a fare questo lavoro. Negli anni a ridosso della rivoluzione francese furono i teorici del pensiero tradizionalista o reazionario, da Edmund Burke a Donoso Cortez a Joseph de Maestres, solo per citarne alcuni. Nella seconda metà dell'Ottocento, gli anni della lotta per il suffragio, furono i testi di Nice, solo per citare il più noto, a tessere l'inno della diseguaglianza. In tempi a noi vicini, vicinissimi, con la democrazia costituzionale che nessuno sembra in teoria contestare, la retorica della diseguaglianza viene usata dalle dottrine economiche di indirizzo liberista contro le politiche dell'uguale opportunità e la tassazione progressiva. Cominciamo dall'antichità che ha impostato la matrice di tutte le teorie delle diseguaglianze tra gli individui. Platone fa dire a Callicle, nel Gorgia, che l'eguaglianza è la vendetta della legge degli uomini contro la legge della natura. Cito, e sì perché in natura tutto quel che è più brutto è a un tempo più malvagio, ossia il subire ingiustizia. Per la legge invece è commettere ingiustizia il brutto. La legge degli uomini rovesce la legge naturale e ordina di non sopraffare l'altro. Punisce non chi è sopraffatto e perde come in natura, ma chi prevale. Aggiunge Callicle, offrendoci un monito che mai dovremmo dimenticare, che l'eguaglianza per persistere nel tempo ha bisogno di essere inculcata generazione dopo generazione, perché diversamente la diseguaglianza tornerà ad essere ammirata più dell'uguaglianza e a vincere sul campo della lotta per il potere. A Calapiadi fin da piccoli, scrive Nietzsche nella Genealogia della morale, i migliori vengono plasmati secondo i valori che hanno inventato i perdenti per sopravvivere senza sforzo. Cito, impastoiandoli e incatenandoli come si fa con i leoni per domarli, li asserviamo dicendo loro che bisogna essere uguali agli altri e che in tale uguaglianza consiste il bello e il giusto. L'uguaglianza dunque è la legge dei deboli, che sono più numerosi e scogitata per renderli forti per artificio numerico. La sua casa è naturalmente la democrazia, il governo dei peggiori, perché i deboli sono la maggioranza, i non coraggiosi, i vendicativi, con coloro, i pochi, che sono forti e potenti. La democrazia usa la conta dei voti per vincere la gara del potere e la tassazione progressiva per atterrare i pochi. L'uguaglianza può operare in due modi, come elevamento di chi sta in basso e come atterramento di chi sta in alto. Dall'antichità e in maniera ricorrente la democrazia è stata spesso identificata da chi la vuole sminuire con la seconda, atterramento verso il basso, come il sistema che spinge giù chi sta in alto, che frena la superiorità per invidia. Oggi si parla di merito più che di superiorità e la ragione è che in una società che, come la nostra, ha comunque abbracciato l'uguaglianza politica, la disuguaglianza deve essere meritata, ovvero riconosciuta da tutti, non può essere imposta. Se non altro, Calli e Clenice non avevano remore a sostenere apertamente che i migliori non hanno alcun merito se non l'essere naturalmente superiori. Non devono attendere alcun riconoscimento sociale, nessuno deve dirgli se lo meritano. Il superiore è tale perché è capace di vivere senza riconoscimento degli inferiori. Il suo è il coraggio dell'eroe. Ecco perché la democrazia per gli inegualitari è il peggiore governo. Perché, si legge ancora nel Gorgia, i più deboli, credo bene che si accontentino dell'uguaglianza, sono vili e non vogliono rischiare la lotta, vogliono il paracadute della legge uguale per tutti. E sappiamo che la lotta del demos contro gli aristocratici fu prima di tutto la decisione dei poveri di dirsi uguali in potere ai ricchi. E dovete prendere il potere un poeta per convincere con belle parole che i disprezzati molti erano uguali dei bisogni ai divinizzati pochi, fatti della stessa pasta, come diceva Solone. Pensare che uguaglianza e individualità possono stare insieme è stata per i grandi attori del passato, almeno fino alla seconda metà dell'Ottocento, un'incongruenza radicale perché la distinzione, l'eccellenza, la preeminenza individuale sono i caratteri che l'ordine secondo la legge degli uomini cancella e umilia. L'eguaglianza dice che non c'è superiore e inferiore ma solo diversità di espressione di una comune natura umana. I suoi critici dicono che in questo modo i caratteri visibili e peculiari dei singoli individui lasciano il posto ad un'astrazione reputata comune a tutti, l'umanità, dalla quale sono fatti derivare i giudizi sul bene, sul male, sul giusto e l'ingiusto. Ma chi ha mai visto un essere umano? Chi ha mai visto l'umanità? E si chiedeva sarcastico Burke che diceva di vedere solo inglesi, tedeschi, italiani, francesi ma non uomini e basta, non l'umanità. L'umanità e basta, la comune natura umana che è una costruzione sociale, scriveva amareggiato Nice, ha consentito di esaltare tutti i caratteri che sono contro natura, i deboli, i mediocri, i vigliacchi ed è stata elevata, falsa com'è, a norma universale del diritto e della morale. L'eguaglianza che la legge degli uomini impone esprime pertanto un'attitudine negativa e ha una funzione repressiva, non aggiunge, toglie, e guaglie in difetto, reprime, priva, nasconde il valore. E così l'utilitarismo egualitario del Jeremy Bentham era considerato da Nice autorepressivo e calvinista, cioè una logica democratica tramutata in etica e una filosofia dell'ordine egualitario, secondo la legge, che cancella l'ordine della natura. Nella società moderna di mercato a raccogliere il testimone della giustificazione della diseguaglianza è l'individualismo economico, il pensiero che noi chiamiamo in Italia liberista o neoliberista che si appella ai diritti umani naturali, per esempio e soprattutto quelli della libertà di scelta e di proprietà, ben teorizzati da John Locke nel Seicento. Per i liberisti contemporanei l'uguaglianza è nelle regole della competizione, nelle opportunità offerte dal mercato e nei diritti fondamentali di libertà che riconoscono a ciascuno di noi la padronanza sulle proprie energie fisiche e mentali come sulle cose che possiede e scambia. Ma attenti bene, uguali nei diritti di possedere e scegliere, finiamo fatalmente per essere disuguali nei risultati. La regola uguale serve a giustificare l'esito diseguale, il quale sarà più facilmente accettato da tutti se visto come il frutto di una lotta combattuta direttamente da noi secondo regole uguali. La competizione come la conquista del West, la società come una prateria. Potenzialmente tutti possono partecipare alla corsa e farcela. Il fatto è che appena la corsa comincia, alcuni sono già vantaggiati e il loro vantaggio non si annulla ma si accumula e rende quella che era all'origine una posizione di partenza uguale già una condizione di privilegio anche se non più visto questo privilegio in questo modo perché è all'inizio della corsa che si guarda sempre e quello serve a giustificare la diseguaglianza. Cosicché con il passare del tempo, quelle regole uguali, non si applicano più a tutti ugualmente ma ad alcuni meglio o peggio che ad altri e ciò non scandalizza più nessuno. Questo è dunque l'argomento più convincente, questo del nostro tempo, perché è condiviso anche dagli svantaggiati. Esso convince i perdenti che la diseguaglianza se la meritano perché è frutto del loro minore impegno, delle poche conoscenze e insomma delle loro libere scelte. Per l'individualismo economico, quando e se la competizione è lasciata libera, gli esiti non possono che essere diseguali e questa diseguaglianza è giusta. Inoltre, poiché il rischio di perdere tutto resta sempre possibile, queste diseguaglianze dovrebbero tendere col tempo bilanciarsi fino a creare armonia sociale e giustizia, che è distribuzione dei meriti, cioè di quel che si ottiene via mercato. Distribuzione giusta perché non imposta per legge, per esempio con le politiche redistributive, ma sorta spontaneamente dalla gara economica. Di qui la massima di Robert Nozick, da ciascuno secondo quel che sceglie a ciascuno secondo quel che ha scelto. In altre parole, noi siamo responsabili di quel che abbiamo scelto. Chiedere l'intervento pubblico è giustificato solo se sostieni i perdenti con la carità e la filantropia, ma senza violare le regole del gioco economico, senza adottare politiche di giustizia redistributiva o di uguale opportunità, proprio perché chi perde, perde a causa delle scelte che ha fatto. Merita quel che non ha. Siamo così ritornati alle posizioni di Callicle nel Gorgia. Quando la legge civile interviene per colleggere la diseguaglianza, viola la giustizia naturale e rovescia lo stato delle cose. Quel che è giusto, cioè il successo e la riuscita, viene calmierato come se fosse ingiusto e quel che è naturalmente perdente viene sostenuto per vie artificiali. Per concludere, la teoria della diseguaglianza può essere condensata così, non a ciascuno secondo i bisogni, ma a ciascuno secondo il rango. Distribuzione di potere politico tra chi è uguale in alcune cose ritenute superiori, come la ricchezza, la competenza, la conoscenza, il coraggio in guerra o nella gara economica. La politica deve seguire la natura, dunque, la quale non conosce uguali, ma vincitori e vinti nella gara della vita. Ieri gara militare, oggi gara economica. Oggi esistiamo a questa rinascita in grande della politica delle diseguaglianze nelle piccole e grandi scelte, anche in quelle locali, quando per esempio si vuole legare il destino degli studenti alla famiglia, al territorio nei quali per caso si sono venuti a trovare e che sono spesso luoghi di grande diseguaglianza, di potere economico e culturale. Ma il rispetto della persona e delle sue potenzialità ha bisogno delle uguali condizioni di partenza senza le quali il merito è un trucco. Grazie.